Buongiorno ragazzi, iniziamo a registrare la video lezione relativa ai listbox allora iniziamo a creare un nuovo progetto ovviamente faccio tutti i passaggi per far vedere come si salva anche un progetto quindi in questo caso mettiamo il nome il nome che ricordi l'esercizio stiamo facendo in questo caso facciamo video underscore listbox scegliamo la cartella dove vogliamo mettere questo progetto per noi va bene quella che ho messo in default quindi in visual studio 12, project, soluzioni, esercizi e iniziamo a lavorare sulla parte grafica quindi questo è il form, lo allarghiamo un attimo e iniziamo a capire cosa sono questi listbox teniamo conto che i listbox sono dei controlli quindi li troviamo qua sulla colonna di tutti i controlli se non lo trovo subito vado qua sulla ricerca inizia a scrivere li e arriva il mio listbox a questo punto ho doppio clic oppure me lo posso trascinare qua all'interno e mi fa vedere questo elemento listbox lo dimensioniamo in maniera opportuna e lo spostiamo dove vogliamo all'interno del riquadro praticamente del form come tutti i controlli avrà le sue proprietà ne vedremo qualcuna quella che ci interessa maggiormente saranno gli items cioè gli elementi che sono contenuti all'interno del listbox qua ci fa vedere ad esempio raccolta se selezioniamo raccolta e andiamo su questi tre puntini ci apre una finestra questa finestra ci dà praticamente delle informazioni sul contenuto del mio listbox supponiamo di inserire qualcosa mettiamo nomi di nazioni quindi facciamo Italia do invio ricordatevi come c'è scritto qua ogni riga deve avere un elemento quindi metto Italia e do invio quindi mettiamo ad esempio Francia mettiamo Germania mettiamo Inghilterra mettiamo Spagna mettiamo Portogallo possiamo mettere Svizzera possiamo mettere Svezia e va bene diciamo che ci possiamo fermare qua no togliamo questo diamo ok e vediamo che tutte queste cose che noi abbiamo inserito in raccolta vengono caricate in maniera statica quindi il programma non è in esecuzione ma sono già presenti nel mio listbox tant'è vero che se io mando in esecuzione il programma con Avia o F5 vedo che il mio listbox si è riempito degli elementi che ho ancora che ho inserito poc'anzi a cosa serve un listbox? evidentemente a fare un elenco di un qualcosa in questo caso sono delle stringhe ma ci dà anche la possibilità vedete di selezionare uno di queste voci nel mio elenco ok? una sola di queste voci al momento sono mutuamente esclusive seleziono Germania non posso selezionare contemporaneamente altre cose su questo si può agire si può agire dalle proprietà del mio listbox quindi chiudo il form torniamo al mio listbox guardo le proprietà andiamo verso la lettera S la proprietà che al momento ci interessa è la selection mode la modalità con cui seleziono gli elementi gli items all'interno del mio listbox di default lucida a 1 quindi una selezione singola mutuamente esclusiva ma con la freccia verso il basso posso dire nessuna selezione non nessuna selezione quindi vuol dire che io sto solo visualizzando dei prodotti o degli elenchi in generale oppure posso fare una selezione multipla con singoli click quindi vuol dire che ogni click mi fa la selezione di un elemento lo proviamo, facciamo prima quindi selezione multipla singola vuol dire che una volta che io ho il mio form vado a cliccare Francia e poi Inghilterra poi Portogallo ma non posso tenendo schiacciato vedete selezionare niente se invece vado ancora nelle proprietà e metto l'ultima proposta cioè multi extended beh a quel punto lanciando c'è la possibilità di selezionare il primo e poi trascinando col mouse vedete posso selezionare anche più di uno quindi faccio una selezione multipla quello starà a noi a seconda dell'esercizio che dobbiamo risolvere dare una di queste proprietà ok? per il momento lasciamo ad esempio la selezione multipla però con singoli campioni e questo va bene quindi abbiamo capito che vediamo questa non l'abbiamo sì l'abbiamo provata prima abbiamo capito praticamente che ho un elenco un elenco di informazioni iniziamo a vedere come posso interagire con il mio elenco prendiamo ad esempio una label prendiamo una label doppio clic la portiamo qua e scriviamo ad esempio se vogliamo di voler inserire un nuovo paese quindi andiamo sulla proprietà text della label e facciamo inserisci un nuovo paese ok? poi facciamo in modo di avere qua un text box quindi ancora dalla ricerca facciamo un text box doppio clic lo dimensioniamo in maniera opportuna ok? lo possiamo anche mettere un po' più su perché poi avremo bisogno di spazio per altri pulsanti e posso ad esempio mettere un button quindi lo cerchiamo ancora da qua un button eccolo qua lo invio questo button che ci può servire ad esempio lo ingrandiamo un po' per inserire un nuovo paese quindi ad esempio posso dargli nella proprietà text una etichetta e la chiamo ad esempio aggiungi senza la B aggiungi quindi ci servirà ad aggiungere a questa lista un nuovo elemento da dove lo prendiamo questo elemento? beh evidentemente dal mio text box quindi lo scopo di questo pulsante sarà andare a prendere il contenuto del mio text box 1 si chiama text box 1 non l'ho rinominato e quando clicco su aggiungi lo dovrà mettere aggiungendolo a quello già presente nell'elenco ok? per far questo andiamo sul codice doppio clic sul pulsante di aggiungi ci apre la parte di C sharp quindi iniziamo a capire cosa devo fare devo agire sul mio list box 1 su che cosa del mio list box 1? sugli items sugli elementi e che cosa devo fare su questi elementi? devo aggiungerlo quindi prendiamo la proprietà add add ha bisogno di un parametro che cos'è? è l'oggetto items che devo aggiungere all'interno del list box che cosa devo aggiungere? beh abbiamo detto devo aggiungere quello che è contenuto in text box 1 punto text fatto semplicissimo lanciamolo avvia a questo punto vado a inserire qua un nuovo paese nuovo paese posso mettere ad esempio Irlanda faccio aggiungi e vediamo che l'Irlanda viene aggiunta qua all'interno del mio list box in generale viene messo in coda si dice sempre alla fine di tutto l'elenco ovviamente qua non ho svuotato il campo se dovessi cliccare più volte aggiungi vedete che lui non fa un controllo su quello che sto aggiungendo ci dà anche le barre di scorrimento automatiche se lo spazio non è sufficiente e così via quindi abbiamo visto che con una semplice istruzione è facile aggiungere un elemento quello che dovrei fare in un programma fatto bene e decente è quello di cancellare magari il paese che ho appena inserito e magari restituirci il focus esattamente sul text box 1 per poter aggiungere altre informazioni altri paesi questo lo facciamo in maniera molto molto rapida ma semplicemente dopo che l'ha accodato dobbiamo a questo punto lavorare sul text box 1 possiamo ad esempio cancellare nel contenuto e possiamo ad esempio text box 1.focus quindi restituire il focus in modo tale che succede così f5 possiamo fare così mettiamo qua cosa abbiamo detto svezia c'era già svezia però andiamo su aggiungi e lui lo aggiunge in coda però vedete che dopo che l'ha aggiunto ci ha svuotato il text box 1 ed è pronto a ricevere ad esempio altri paesi quindi abbiamo visto che è abbastanza semplice andare ad aggiungere elementi al mio list box da notare che tutte le volte che io chiudo il programma e lo riapro io vedo solo le informazioni che ho caricato inizialmente quelle che ho caricato nella mia andiamo sulla parte di progettazione nella mia proprietà raccolta ok? questi sono quelli che compariranno sempre tutte le altre cose che faccio in runtime aggiungendole ovviamente poi lui non le salva non va ad aumentare questa collezione di valori ma li devo rinserire di volta in volta ok vediamo altre funzioni che possono esserci su cui possiamo lavorare all'interno del mio list box facciamo un ctrl v ci creiamo un nuovo pulsante e questo pulsante lo disponiamo qua in basso supponiamo che questo pulsante abbia un'altra funzionalità ad esempio quella di contare contare conta elementi ok? conta items cosa voglio che succeda in questo caso? in maniera molto semplice beh, che io vada ogni volta che faccio un click di questo tipo mi vada a contare quante ricorrenze quanti items ci sono praticamente all'interno del mio list box andiamo a vedere come fare sicuramente il numero di elementi sarà un numero intero quindi dichiaro una variabile la chiamiamo numero che rappresenta il numero di elementi e adesso cerchiamo di fare il ragionamento per capire cosa devo fare quindi devo sicuramente lavorare sul list box 1 e quindi me lo prendo devo anche lavorare su che cosa? sugli items quindi lui ce lo suggerisce già items mi va bene cosa devo fare? li devo contare quindi ci sarà una proprietà che si chiama count eccola qua punto e virgola ho finito quindi ogni volta che io clicco sul pulsante lui cosa fa? va sul list box calcola quanti elementi ci sono conta quanti elementi ci sono adesso devo solo mostrarli posso pensare di mostrarli ad esempio con un message box un message box punto show che abbiamo imparato a vedere cosa farà il message box? beh diamo qua numero di elementi possiamo mettere qua due punti uno spazio virgolette e a questo punto possiamo con la concatenazione di string mettere direttamente il numero numero è la mia variabile quindi chiusa a tonda punto e virgola vediamo come funziona f5 conta numero elementi quanti elementi ci sono adesso? sono 8 perfetto aggiungiamo un elemento supponiamo di mettere Sardegna ok aggiungi adesso conto elementi sarà 9 perfetto supponiamo di aggiungere un altro elemento ad esempio Cuba aggiungi adesso sono 10 quindi ogni volta che io clicco il pulsante conto elementi si aggiornerà il numero di elementi presenti nel mio list box e questo mi va più che bene ci sono altre cose da fare andiamo aggiungiamo un altro pulsante CTRL C CTRL V questo pulsante ad esempio supponiamo che ci consenta di che so ordinare un list box quindi andiamo a cambiare il text del mio pulsante e questo lo chiamiamo ad esempio ordina quindi dando invio si chiama ordina cosa deve fare? deve ordinare gli elementi della lista doppio clic andiamo al codice lavoro sempre su list box 1 e va bene a questo punto cosa devo fare per ordinarlo? beh ci sono dei metodi di ordinamento ordinare in inglese sort quindi vedete sort lo prendo e imposto questa proprietà che è un booleano a true quindi gli sto dicendo la lista ordinata si è vero dalla vera quindi ordinami la lista quindi vediamo come funziona lanciamo qua ci sono praticamente i miei elementi li ordino vedete ora non sono in ordine alfabetico perché evidentemente la Francia verrebbe prima dell'Italia anche la Germania quindi se io li vado a ordinare vedete Francia Germania Inghilterra Italia ora sono ordinati attenzione è una proprietà che io ho settato a vero quindi vuol dire che tutto quello che succederà adesso farà sempre fede al fatto che il mio list box è ordinato quindi se io adesso vado a mettere ad esempio Cuba prima lo aggiungeva in coda adesso lo aggiungerà direttamente in maniera ordinata ok se io metto cosa ne so Australia evidentemente lo metterà in prima posizione ok se metto la Zambia scusate Zambia ok aggiunge elemento lo metterà in coda ok ovviamente quindi una volta che ho deciso che questo sarà in ordine crescente non posso più tornare indietro ok però può servire per vedere ad esempio se faccio un dei se metto dei cognomi ecco averli in ordine alfabetico potrebbe interessare vediamo altre cose che possiamo fare supponiamo di fare la cancellazione quindi prendiamo ancora ctrl c ctrl v un altro pulsante e supponiamo di fare su questo pulsante delle operazioni per cancellare cancellare quindi cosa voglio cancellare voglio cancellare ad esempio un elemento selezionato un elemento selezionato anzi proviamo prima a svuotare completamente che è molto più facile svuotare completamente questa lista quindi entriamo sul codice cancellare cosa fa cosa devo fare cosa devo pensare qual è il ragionamento per cancellare la lista beh su listbox 1 devo agire sugli elementi ci devo andare quindi items ci devo andare come abbiamo visto già per la list la label il textbox eccetera c'è un comando che si chiama clear che mi permette di cancellare quindi traduciamo questo comando cosa mi sta dicendo cancella gli elementi del listbox vediamo se funziona ho la lista piena cancello e si svuota aggiungo un altro paese Italia ok c'è non mi piace neanche Italia voglio normalmente vuota ecco qua che è vuota ok quindi questo è molto semplice questo per cancellare tutto se invece voglio rimuovere un solo elemento beh facciamo un altro pulsante quindi cancellare questo cancellare diventa un cancellare tutto ok o svuota la lista o quello che volete ctrl c ctrl seleziono ctrl v prendiamo un altro pulsante questo pulsante invece lo chiamiamo rimuovi quindi in questo caso andiamo a rimuovere un elemento quindi rimuovi selezione ok rimuovi selezione ricordo che la rimozione della selezione avviene un elemento alla volta quindi per adesso facciamo le cose semplici supponiamo di scegliere un elemento e voglio rimuovere quello che io ho selezionato cosa vuol dire che in questo caso se avvio il programma seleziono qua spagna e non voglio la spagna devo poter cliccare su rimuovi selezione e mi deve cancellare spagna ok non ho messo il codice quindi adesso non fa assolutamente niente ma andiamo a costruirci il codice doppio clic su rimuovi selezione perfetto è facile come devo ragionare beh ragiono sempre su listbox 1 va bene devo ragionare sulle elementi ok items cosa ci devo fare con questi elementi li devo rimuovere quindi vado a cercare remove in questo caso vedete abbiamo due possibilità per rimuovere remove o remove at sono diverse iniziamo a utilizzare il remove quindi do invio ha bisogno di un parametro quindi cosa sta dicendo questo comando rimuovi dagli elementi di listbox 1 che cosa? per parametro gli devo dire quello che deve rimuovere e quale sarà quello che devo rimuovere con il ragionamento fatto prima è semplicemente l'elemento selezionato di chi? di listbox 1 quindi scriverò che listbox 1 punto a questo punto vado a cercare quelli selezionati chi sono? sono i selected selected item ne devo cancellare solo uno quindi attenzione per la cancellazione devo prendere quello senza la S finale ne devo cancellare uno solo l'unico che è selezionato anche se è una soluzione multipla ok? ritraduciamo quello che c'è scritto qua in codice vai su listbox 1 sugli elementi e rimuovi dagli elementi quale quello che ti do tra i parametri ovvero da listbox 1 rimuovi l'elemento selezionato ok? proviamo lancio il programma vado a selezionare la Spagna che non mi piace faccio rimuovi seleziona e la Spagna è sparita vado a prendere la Germania rimuovi e la tolgo vado a prendere la Svizzera rimuovo e la tolgo non voglio più nessuno rimuovi tutto voglio inserire l'Italia basta faccio Italia aggiungi ok? queste sono le operazioni base che noi possiamo fare con il nostro listbox prima di lasciare di abbandonare di terminare questa lezione vediamo ad esempio un caso che potrebbe essere interessante in questo caso se io non ho praticamente nessun elemento selezionato vado a fare rimuovi selezione vedete non fa niente però magari la persona dice ma cosa sto sbagliando devo fare in modo che questo comando rimuovi selezione debba essere attivato solo quando quando io ho selezionato qualcosa se io adesso seleziono e cancello allora lui si che me lo cancella ma se io non ho selezionato niente io posso stare tutto il giorno qua a cliccare e non fa assolutamente niente beh possiamo fare un semplice controllo che mi dice guarda che non hai non hai selezionato niente cosa vuoi che rimuova quindi questo come lo faccio lo faccio dal programma quindi ci ricaviamo un po' di spazio da qua sopra e iniziamo a pensare che cosa devo scrivere devo scrivere che se il listbox 1 punto devo contare gli elementi selezionati quindi lui già mi dice prendi gli elementi selezionati selected items punto count proprietà count se questi sono uguali uguali a zero allora cosa devo fare se la selezione è uguale a quella a zero non ho selezionato niente allora qua magari gli butterò dentro un message box mentre altrimenti cosa faccio e faccio quello che ho scritto prima quindi qua lo chiudo qua gli diamo un message box message box punto ad esempio show dove gli dico non hai selezionato nessun elemento un po' di enfasi virgolette chiusa a tonda punto e virgola f5 lo lanciamo quindi a questo punto io rimuovo selezione allora non è selezionato niente scusa allora prendiamo portogallo lo rimuoviamo perfetto rimuoviamo anche ah non ho selezionato niente ok questo è un modo per controllare praticamente quello che sta succedendo all'interno del mio programma bene con questa prima parte va bene adesso interroppo la registrazione facciamo un secondo esercizio in una nuova lezione arrivederci a presto